C'è anche un sottile gusto psicologico della contraddizione di quelle che evidentemente vengono considerate delle giaculatorie tipiche della sinistra e quindi capisco che il governo in qualche maniera tenda a contraddirle, però senza entrare in questo meccanismo che non mi appassiona quello che è certo è che l'irruzione della democrazia nelle grandi scelte energetiche di politica industriale, di gestione dei rifiuti e quindi la conoscenza dei fatti, la democrazia dal basso che consente alle comunità di decidere il proprio destino è rilevante anche per consegnare loro la responsabilità e chiudere con la cosiddetta sindrome NIMBY quando tu prendi un gruppo di sindaci delle città e gli dici bisogna realizzare un impianto di compostaggio mi dovete dire dove perché non ci sono alternative, loro te lo devono dare questo luogo e se passato un ragionevole tempo questo luogo non viene individuato allora è giusto che un governo regionale o nazionale prenda la decisione al posto di una comunità che evidentemente pensa che l'importante sia allontanare dal proprio territorio e dalla propria abitazione gli impianti fastidiosi o a rischio. Questo non è ambientalismo, questo è irresponsabilità e noi ci auguriamo che il governo nazionale e le regioni collaborino per uscire da questa idea e costruire una società diversa, smart, intelligente, che gestisce bene l'energia, la produce in maniera non impattante e questo è a portata di mano, le tecnologie ormai ce lo consentono e tutti quelli che dicono che siamo obbligati a produrre acciaio o energia elettrica col carbone o a fare trivellazioni petrolifere raccontano delle balle, quindi è arrivato il momento di dirlo e questo è stato un luogo dove smentire queste bugie è stato più facile con la presenza di giuristi, scienziati, imprenditori, persone che da tempo si occupano di queste materie, un convegno quindi di grandissima importanza proprio per ripristinare la verità.